Ciao ragazze, ho fatto un piccolo ordine di fettuccia tesa e lastrica di licra da polvere di stelle Mavi per andare sul sito basta che andate su www.polveredistellemavi.it e ho preso alcuni colori allora, ho preso, se non mi rimane incollato ovunque quella bianca, 4 metri quella gialla non so se si vede bene, sempre 4 metri, ho preso di tutto 4 metri poi questa, allora la gialla si chiama aspettate che mi piglio il foglio sotto mano così vi dico i nomi lì flash, invece questa è neon arancio sempre di arancio c'era il ginger che è quest'altro arancione vedete è un po' più arancione rispetto a questo che l'ha preso una mia amica, è nero poi ho preso la renetta che è questo verde poi questo azzurro che si chiama, aspettate che lo trovo, acquarius molto bello, mi piace tantissimo poi il lilla che è semplicemente lilla dopodiché, adesso non so quale uno e quale l'altro ho preso l'ecstasy e il come si chiama, dov'è, 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 dov'è e il geranio ora io credo che il geranio sia questo e l'ecstasy questo qua, ora non mi ricordo sinceramente perché non ho non ho presente ecco questi sono gli ordini che ho fatto io poi la mia amica mi ha preso, ha preso appunto 2 metri di questi anche lei lilla e verde poi lei ha preso il colore antracite di fettuccio tubolare questa qua poi l'argento grigio io ci ho già fatto dei bracciali con questi e il verde chiaro mimetico ecco questi sono quelli invece che ha preso lei c'è tantissimo, ho preso di tutti i 4 metri tranne questi qua che ce ne sono 2, 2, 2, 2 e anche questi qua sono tutti da 2 metri e in totale compreso di spese di spedizione ho pagato aspettate che lo trovo 47,64 euro ecco questo è tutto li ho presi perché volevo fare quei bracciali elasticizzati solo che all'inizio non li farò con i classici charms in argento tibetano come fanno tutte mi sto organizzando per comprare anche quelli però ho due ordini su Etsy abbastanza grandi da 60-50 euro l'uno quindi sono veramente tanto io semplicemente li farò con le mie creazioni semplicemente per modo di dire perché ovviamente quando poi li metterò in vendita a differenza di 8-13 euro come tutti fanno pagare questi braccialetti qua che si girano 3 volte sul polso o 2 con i charms in argento io li farò pagare qualcosina in più perché metterò tanti charms però fatti a mano e quindi non vedo l'ora di iniziare e niente questo è un piccolo acquisto poi appunto dovranno arriverare altri acquisti creativi da Etsy quindi appena arriveranno lì ci vorrò un pochino di più vi farò vedere anche quelli adesso vi saluto e vi mando un bacione ciao grazie